Ciao Girullers, se avete una mountain bike sicuramente ci avete pensato almeno una volta prendere la bici e partire senza preoccuparsi di niente che non sia pedalare e godersi il paesaggio questo tour che vi proponiamo è un bellissimo percorso ad anello tra Piemonte e Valle d'Aosta che in sei giorni attraversa otto valli sale fino a 3.000 metri per un totale di 300 km e quasi 7.000 metri di slivello accompagnati da Igor, la nostra guida esperta della zona è un tour tutto incluso, comprende i pranzi, le cene, comprende il furgone d'appoggio e il fatto di trovarsi i bagagli in albergo che ci aspettano la sera in più include anche la maglietta tecnica Girulla questo è il nostro 6 giorni di avventura in mountain bike, il Grand Valley Tour ricordatevi il casco, vi aspetto!